E' importante proprio perché noi mostriamo che la violenza sul più debole è sempre la stessa, si tratti di un bambino, di un animale, di una donna, di un vecchio, di un anziano ed è per questo importante la presenza delle organizzazioni animaliste anche nel contesto delle battaglie per il riconoscimento dei diritti civili e che cosa c'è di più importante oggi in Italia che chiedere il riconoscimento delle unioni civili? Il rispetto, combattere l'omofobia significa rendersi conto che non si può essere animalisti e sessisti, omofobi, specisti, discriminare in base al sesso, alla specie e all'orientamento sessuale Adesso se Riccardo è pronto